Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria dopo l'arresto per corruzione ieri del numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara Giovanni Impastato. La direzione generale di Roma annuncia che è pronta a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale per salvaguardare l'immagine dell'Agenzia. Sentiamo il servizio di Francesca Romana Testi. Sul caso di corruzione che ha coinvolto il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara Giovanni Imparato, filmato in fragranza di reato dalla Guardia di Finanza mentre riceve una busta contenente denaro per chiudere un contenzioso, è intervenuta oggi la direzione generale che da Roma ha fatto sapere che si costituirà parte civile a tutela della propria immagine. Nel frattempo a Pescara, dopo la perquisizione avvenuta il 20 aprile scorso, c'è riservo sullo stato dei lavoratori. Qualcuno parla di clima teso, intanto a parlare il direttore provinciale che si unisce alla voce del direttore generale Rossella Orlandi. Questa è la posizione dell'Agenzia delle Entrate, è manifestata in maniera molto chiara. Chiaramente per quel che mi riguarda non posso che ricondurre l'iniziativa della direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto ci rimettiamo all'azione dell'autorità giudiziaria per accertare i fatti e la verità. Si terrà tra cinque mesi, il 21 di ottobre, il processo per gli isolatori sismici in corso di svolgimento all'Aquila. Si avvicina dunque il termine della prescrizione, il servizio di Daniela Rosone. L'udienza del processo sugli isolatori sismici del progetto case slitta di cinque mesi. Il giudice Giuseppe Grieco ha infatti fatto slittare il 21 ottobre la prossima udienza, stessa data del processo sulle forniture di bagni chimici. Potrebbe configurarsi dunque anche per questo processo lo scenario della prescrizione. Alla ripresa del processo dovrebbero esserci confronti tra consulenti tecnici. I due imputati, lo ricordiamo, sono Gian Michele Calvi, direttore dei lavori nella realizzazione del progetto case, e Agostino Marioni, dirigente di una delle ditte che ha fornito gli isolatori, l'Alga S.P.A. Secondo l'accusa, l'Alga avrebbe fornito isolatori privi di certificati di omologazione. Certo è che i tempi sono quel che sono e forse potrebbe essere messa la sentenza di primo grado, ma tecnicamente non ci sarebbero poi tempi per il ricorso in appello e dunque per il secondo grado di giudizio ed eventuale cassazione. Ricordiamo che per questo processo il giudice Giuseppe Romano Gargarela aveva condannato con il rito abbreviato, con le stesse accuse, a un anno di reclusione Mauro Dolce, responsabile del procedimento di realizzazione del progetto case. La sentenza era stata confermata anche in appello, ma lo scorso 8 aprile la cassazione ribaltò tutto assolvendolo. Dolce e Calvi sono indagati anche nell'inchiesta della procura, svolta dal corpo forestale dello Stato, aperta per il clollo di un balcone, avvenuto nel settembre del 2014, come ricorderete, dal terzo al secondo piano di una palazzina del progetto case di Cese di Preturo. Entrambi sono già stati condannati in primo grado, a sei anni di reclusione ciascuno e assolti in appello e in cassazione, assieme ad altri cinque esperti per omicidio colposo e disastro colposo nell'ambito del processo alla Commissione Grandi Rischi, l'organo scientifico consultivo della Presidenza del Consiglio, di cui erano componenti, all'epoca, di quella ormai tristemente nota e famosa riunione del 31 marzo 2009, a cinque giorni dalla scossa mortale del 6 aprile. Un detenuto di 45 anni di Palermo ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad avere un figlio con l'inseminazione artificiale. Fabio Cucina, pluricondannato per traffico di droga, uscirà dal carcere non prima del 2023, ma in autunno diventerà padre per la terza volta. La procedura è stata permessa dalla direzione del carcere di Lanciano, dopo che per motivi pratici non era stata ammessa nel calcere palermitano di Pagliarelli. Più volte riconosciuto colpevole di una serie di traffici di sostanze stupefacenti, Cucina deve scontare un cumulo di pene per complessivi 24 anni. Il permesso è passato attraverso il nulla osta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Chieti, che ha effettuato i necessari controlli. Siamo al lavoro adesso. I dipendenti del Ciappi sono da tre anni senza stipendio. La partecipata della Regione Abruzzo ha 10 milioni di euro di debiti. Nell'incontro di questa mattina in Regione con l'assessore Lolli si è aperta la strada della liquidazione. Filippo Tronca. La situazione dei dipendenti del Ciappi è che comunque cercano di portare avanti l'attività formativa per quanto è possibile, con grosse difficoltà, ma ormai con oltre tre anni senza essere ritribuiti sono allo stremo delle forze. Ormai vivono di contributi di parenti, amici, qualcuno dorme in macchina e con una situazione veramente tragica. Una crisi senza fine è quella dei lavoratori del Ciappi, il centro interaziendale addestramento professionale industria, partecipato interamente dalla Regione Abruzzo, gravato da 10 milioni di euro di debiti e con stipendi non pagati anche di 36 mesi, con alcuni dipendenti costretti addirittura a dormire in macchina e che campano con gli aiuti di amici e parenti. Oggi una delegazione di questi lavoratori ha incontrato il vicepresidente di Giunta Giovanni Lolli chiedendo per l'ennesima volta cosa intende fare la Regione per uscire dal tunnel e chiedendo l'UMI in particolare sullo stanziamento straordinario di 700 mila euro annunciato ma mai erogato, necessario a dare almeno un po' di ossigeno ai lavoratori allo stremo. Riuscire a svincolare quell'impegno di 700 mila euro preso a dicembre dal Consiglio regionale all'unanimità e che però non ancora vengono svincolati in quanto manca la variazione di bilancio. Il vicepresidente Lolli e il direttore del Dipartimento Risorso e Organizzazione Ebron d'Aristotile hanno assicurato che i 700 mila euro saranno erogati il prima possibile. Per il futuro, ha poi spiegato Lolli, la soluzione non può che essere quella di staccare la spina e liquidare l'ente, vendere il vendibile per pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti e ricollocare tutti coloro che non andranno in pensione come collaboratori nei vari progetti europei di formazione. L'idea è andare a una liquidazione, recuperare i beni e quindi poter pagare intanto le aspettanze dei creditori, i principali creditori sono i lavoratori. Lavoratori con le loro attività invece che sanno fare, possono fare, vengono impiegati in attività utili per questa regione. Ieri sera, seduta della Giunta regionale, tra i temi trattati, l'accordo con il Tribunale di Pescara per il distacco dei dipendenti, lo stanziamento di fondi per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Piomba, il trasferimento del personale dell'area di Chieti Pescara all'Arap. Francesca Romana Testi Approvato nel corso della Giunta regionale lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo il Tribunale di Pescara, che disciplina i termini per una collaborazione interistituzionale con finalità di interesse reciproco. Il Governo della Regione, ha spiegato il Presidente D'Alfonso dopo la nota del Tribunale di Pescara, che richiedeva di colmare le scoperture di organico e garantire la funzionalità della giustizia sul territorio regionale facenti capo al medesimo Tribunale, ha deciso di accogliere la richiesta, prevedendo la possibilità per il personale che ne farà esplicita richiesta, di essere trasferito negli uffici giudiziari del capoluogo adriatico. Il provvedimento approvato prevede che l'apporto collaborativo potrà essere prestato da personale dipendente della Regione Abruzzo, che manifesti la propria disponibilità e da individuare a seguito di avviso interno, tenuto conto delle specifiche professionalità richieste. Nella stessa giornata l'Aggiunta ha approvato la delibera concernente il piano triennale della viabilità regionale relativamente all'accordo di programma con i comuni di Città Sant'Angelo e Silvi Marina e con le province di Pescara e Teramo per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Piomba per un importo di 2 milioni di euro. Nel provvedimento l'Aggiunta prende atto della modifica della Convenzione sottoscritta tra le province di Teramo e di Pescara e i comuni di Silvi Marina e Città Sant'Angelo con la quale si stabilisce che spetti alla provincia di Teramo la realizzazione dell'opera compresa la procedura di gara, la direzione dei lavori e la nomina della commissione di collaudo. Viene inoltre stabilito che l'intero finanziamento venga erogato in favore della suddetta amministrazione disponendo che tutti gli obblighi del soggetto attuatore siano in campo alla stessa provincia. Attenzione è stata rivolta poi anche alla questione Arap. Nel dettaglio l'Aggiunta in una nota dichiara che il potere di trasferire il personale in servizio nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara all'Azienda Regionale per le Attività Produttive rientra nel novero dei poteri dei commissari liquidatori e come tali possono essere esercitati senza attendere il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Aggiunta regionale ribadendo la validità delle direttive sulla procedura liquidatoria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara e demandando ai commissari liquidatori la facoltà di predisporre i relativi atti. In Commissione di Vigilanza in Regione Abruzzo si è discusso della RIA la indennità individuale di anzianità per i dipendenti e i dirigenti regionali. RIA ovvero le indennità individuali di anzianità un'extra in busta paga per i dipendenti e dirigenti regionali aumentato ai massimi anche a 1200 euro in più al mese da un improvvida legge del 2007 che poteva costare ai contribuenti abruzzesi un salasso da 100 milioni di euro se non fosse stata dichiarata incostituzionale nel luglio 2014 con una sentenza della consulta che è arrivata però quando molti buoi erano scappati dalla stalla ovvero quando oramai un imprecisato numero di dirigenti e dipendenti sono potuti passare comunque all'incasso forti di un ricorso passato ingiudicato e dopo il luglio 2014 anche a causa denuncia il sindacato UIL per l'inerzia della Regione che in una ventina di casi non si è opposta alla sentenza di primo e secondo grado anche se è forte di una sentenza della Corte a suo favore. A queste incredibili vicende è stata dedicata oggi la seduta della Commissione Vigilanza e ad essere ascoltati in primis proprio una rappresentanza del sindacato UIL che chiede l'apertura di un'inchiesta penale contabile in modo tale che chi nella struttura regionale abbia eventualmente sbagliato paghi di tasca sua. Abbiamo chiesto che ci fosse un'indagine all'interno della Giunta regionale per verificare se ci sono state, come noi abbiamo rilevate, grosse anomalie quindi verificare il comportamento se ci è stato un comportamento corretto da parte della struttura regionale sull'argomentoria. Finora la Regione ha sborsato in indennità retrate 2,2 milioni di euro e c'è anche un altro aspetto su cui urge fare chiarezza. A quale titolo l'Ufficio del Servizio Risorso Umane sta procedendo alla liquidazione di significative somme di denaro e se c'è o meno copertura per farlo nel bilancio. Se si tratta infatti di debito fuori bilancio dovrebbe essere riconosciuto dal voto del Consiglio regionale. Ci sono una dozzina di pratiche che in effetti meritano attenzione però non è l'organo della Commissione di Vigilanza che deve fare questo per cui invieremo le carte ai Revisori dei Conti e credo che loro debbano essere ad intervenire. Ci sono stati dei ritardi nella opposizione alle cause e quindi le sentenze sono passate ingiudicate e quindi si è dovuto pagare. Proprio perché si parla di errori e di omissioni mi pare chiaro che si intravede da parte dei sindacati un errore da parte di coloro i quali avrebbero dovuto tener conto della sentenza della Corte Costituzionale e se non l'hanno fatto e hanno provveduto come dire in maniera definiamo superficiale a erogare queste somme e allora appare chiaro che probabilmente ci sono delle responsabilità. Fa rumore l'esclusione di Francaville Roseto dalla lista delle bandiere blu della FEE l'Abruzzo per il 2016 scende da otto bandiere dello scorso anno alle sei attuali. Sentiamo. L'Abruzzo paga d'azio e perde due delle otto bandiere blu del 2015 scendendo a quota 6 penalizzate Francavilla e Roseto degli Abruzzi. A Francavilla hanno pesato i divieti di bagnazione della scorsa estate con il sindaco Luciani che se la prende con l'ACA chiedendosi chi pagherà i danni d'immagine. La falla di Fosso Pretaro con i reflui scaricati a pochi metri dalla battigia è stata riparata ma troppo tardi. La FEE, l'organo che assegna il riconoscimento ha tagliato il comune chietino dalla lista delle bandiere blu. Anche Roseto, come detto, esce dalla lista dopo 17 anni consecutivi di permanenza tra le località balneari migliori d'Italia scatenando un vespaio di polemiche in piena campagna elettorale. Chi può sorridere invece è Silvi che torna nel novero delle bandiere blu andando a rimpinguare il manipolo dei comuni del Terramano. Il dato che emerge però è il calo generale della qualità delle acque e dei servizi offerti al comparto turismo estivo se è vero come è vero che dal 2013 ad oggi si è passati da 14 località premiate a 6 con il calo più evidente in provincia di Chieti. La trentesima edizione della manifestazione ha voluto premiare quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti come stabilito dai risultati delle analisi che nel corso degli ultimi 4 anni le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente hanno effettuato nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio condotto dal Ministero della Salute in collaborazione con quello dell'ambiente. Anche quest'anno è stato dato grande rilievo alla gestione del territorio e all'educazione ambientale messa in atto dalle amministrazioni al fine di preservare l'ambiente e promuovere un turismo sostenibile. In Italia in totale sono 152 i comuni insigniti con la bandiera blu della FEE. Secondo un'analisi compiuta sul territorio nazionale tantissime regioni avrebbero alti tassi di pesticidi nelle acque tra le peggiori c'è la regione Abruzzo e gli ambientalisti dunque chiedono più controlli per evitare rischi alla salute. Un dato nazionale sulla presenza di pesticidi nelle acque in una classifica stilata l'Abruzzo si trova nelle posizioni più alte la cosa che poi è da specificare è che 5 regioni italiane non mandano proprio i dati. Sì, è una classifica in cui noi siamo in una posizione cattiva perché abbiamo troppi pesticidi nelle acque sotterranee in particolare nelle falde acquifere abruzzesi ci sono fitofarmaci e pesticidi quindi sostanze anche pericolose lo certifica l'ISPRA nazionale quindi il governo e addirittura ci sono però 5 regioni del sud Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Molise che non mandano proprio i dati al governo e questo la dice lunga sullo stato del monitoraggio in Italia però in Abruzzo alcune analisi vengono fatte peraltro parziali perché l'Art Abruzzo non riesce a cercare centinaia di pesticidi che sono in commercio quindi il dato che abbiamo che è comunque molto preoccupante è comunque molto molto parziale ed è a nostro avviso intollerabile che sostanze che possono causare problemi all'ambiente e alla sud e non vengono neanche cercate e monitorate fortunatamente in Abruzzo noi prendiamo acque da aree montane dove fortunatamente questi pesticidi non vengono utilizzati certo è che se continuiamo a usare pesticidi in queste quantità assolutamente insostenibili potremmo anche avere nel futuro problemi anche di approvvigionamento delle acque potabili magari in alcune situazioni dove per esempio viene potabilizzata l'acqua dai fiumi in provincia di Teramo SEL Sinistra Italiana presenta la sua proposta per le prossime amministrative è pronta la corsa per le amministrative la macchina di SEL nella provincia di Teramo il partito così come sta accadendo a livello nazionale si pone come riferimento di sinistra alternativo al partito democratico da qui la scelta nei quattro comuni dove SEL presenta la sua proposta ai cittadini come sinistra italiana crediamo proprio che registreremo dei successi nei quattro comuni dove siamo presenti al voto Roseto, Castellalto, Basciano e Bellante appunto dove esprimiamo anche il candidato sindaco in due di questi comuni abbiamo delle scelte abbiamo operato delle scelte comunque di rottura di autonomia nei confronti del partito democratico quindi chiaramente alternativa al centrodestra come a Bellante scende in piazza con l'agenzia delle entrate per aiutare i cittadini nella compilazione del 730 e del modello unico tre giorni di informazione per il cittadino per la dichiarazione dei redditi piazza Salotto offre nell'urban box tutti gli esperti quali saranno tutte le questioni alle quali risponderete? Sì, le questioni in merito al 730 il modello unico precompilato però accanto agli operatori dell'agenzia delle entrate abbiamo anche degli operatori dell'ufficio tributi del comune proprio per evidenziare questa sinergia tra le due amministrazioni l'amministrazione comunale che ha voluto fare questo incontro, questa iniziativa proprio perché è un momento un po' delicato un momento in cui ci sono numerose scadenze e il cittadino si sente un po' presso berato dalle incombenze fiscali anche perché sono argomenti ostici difficili da trattare e quindi si voleva dare questa opportunità Ultiamo pagina presentata a Castelfarentano in provincia di Chieti l'ultima fatica letteraria di Santino Spinelli dal titolo Rom questi sconosciuti Alessio e Gian Cristofalo Mette in evidenza tutti quegli aspetti che non si conoscono nel mondo Rom da un modo di vista storico, culturale, linguistico, antropologico quindi far conoscere questo enorme patrimonio artistico e culturale che è il patrimonio dell'umanità molti non conoscono i Rom realmente per cui si è imposto un'immagine stereotipata e soprattutto si è imposto uno sguardo strabico sul mondo Rom che porta alla mistificazione certamente ci sono persone che si comportano male ma non tutti i Rom si comportano male e l'integrazione è molto più avanzata di quello che si crede A che punto è lo stato dell'arte culturale nei confronti della cultura Rom, Santi? Ma si conosce poco la cultura Romani ecco io cerco di farla conoscere attraverso la musica attraverso le mie opere letterarie per far vivere gli altri questa cultura che appartiene a tutto il mondo io credo che attraverso un'attività interculturale noi possiamo anche evitare i conflitti perché la conoscenza dovrebbe portare al rispetto e alla mutua comprensione ecco quindi è importante far conoscere queste cose per avere un maggior rispetto i Rom oggi da questo punto di vista sono assolutamente sconosciuti Apriamo la pagina dello sport e parliamo del Pescara ieri non si è allenato Cocco a causa della febbre solo palestra invece per Cappelluzzo quasi certa la conferma della stessa squadra vittoriosa nel derby il tecnico Oddo dice nessun calo di tensione dobbiamo mantenere il terzo posto ascoltiamolo no anzi sono difficilissime come tutti gli altri come per tutti è ovvio che noi incontriamo due squadre che hanno bisogno di far punti quindi le motivazioni si trovano da sole nel senso che i ragazzi non sono stupidi sanno l'importanza di mantenere una posizione in classifica mantenere il terzo posto vuol dire tanto vuol dire vantaggi in anni precedenti le squadre per un posizionamento migliore sono andate in Serie A e quindi non c'è bisogno di spinte ulteriori da parte mia sulla testa vivendo le partite una volta sappiamo che dobbiamo andare a Modena e provare a vincere Campagnaro sta bene sta lavorando a parte adesso vediamo in settimana come risponde all'incremento di lavoro che avrà però tutto sommato è sulla via del dovrebbe essere sulla via del recupero lui ci vuole sempre il condizionale però dovrebbe essere sulla via del recupero se sta bene gioca se sta bene gioca non credo da Modena dall'inizio in questo momento essere in forma o no non serve a nulla bisogna essere in forma quando iniziano i playoff e la forma non è solo un aspetto fisico ma è anche un aspetto mentale e quindi quello che c'è adesso conta veramente meno di zero certo vedere aspetti positivi come la condizione fisica che per noi sicuramente è positiva l'aspetto mentale che in questo momento è positivo va benissimo e ci fa piacere però poi quando inizieranno i playoff sarà un'altra storia perché nel momento in cui l'anno scorso si inizia i playoff credo che pochi allenatori della griglia dei playoff avrebbero risposto di pescare la squadra più in forma perché così non era però poi i playoff sono una storia a parte parte un altro campionato e lo stato di forma conta lì Per il Modena impegnato nella sfida salvezza quello di sabato è un impegno fondamentale ascoltiamo adesso l'attaccante Davide Luppi Comunque al momento siamo fuori dai playoff è vero che ti aspetta un calendario più difficile magari rispetto alle nostre avversarie ma credo che il campo stia parlando bene per noi visto che stiamo dando dimostrazioni di forza e comunque di condizione atletica e a Salerno magari potevamo portare a casa anche tre punti magari con un po' di convinzione ma sicuramente anche il fattore campo è un po' inciso abbiamo ritrovato un po' il gioco che avevamo anche all'inizio e sicuramente è una squadra molto più solida e con il quale comunque è difficile giocare credo adesso abbiamo il Pescara e dobbiamo assolutamente vincerla per solvarci quindi è la partita della vita direi è una partita che si può vincere da un momento all'altro quindi bisogna cercare di avere un atteggiamento comunque come l'ha detto è molto lucido e anche nel caso comunque aspettare non è che bisogna per forza andare all'area in balgio ma dobbiamo fare come abbiamo sempre fatto la nostra partita fino a questo momento e cercare di essere più concreti davanti e attentissimi dietro adesso parliamo della Virtus Lanciano la restituzione dei punti cambia la prospettiva di questo finale di campionato per la squadra frentana che ora torna artefice del proprio destino e se dovesse fare il pieno di punti nelle prossime due gare sarà sicuramente salvo Andrea Costantini un vero e proprio tocca sana la restituzione dei tre punti in classifica la Virtus Lanciano arrivata con la sentenza della Corte Federale d'Appello dopo il dibattimento di ieri ha ridato l'Infa la rincorsa salvezza della squadra di Primo Maragliulo una rincorsa che era comunque in atto ma quei tre punti di distacco dalle più dirette rivali la mazzata subita all'Adriatico e la necessità di dipendere tanto dai risultati delle concorrenti oltre che dai propri rendevano il compito particolarmente complesso in tanti speravano nella restituzione di un solo punto quello legato alla rinuncia allo stipendio di Manuel Turchi ed invece ne sono tornati tre perché il pool di Legali, Chiacchio, Cozzone e Di Cintio ha saputo smontare il teorema della recidività ora la Virtus di punti ne ha 42 così come Salernitana, Latina e Modena ma per la classifica Vulsa in questo momento sarebbe addirittura salva e lo sarebbe definitivamente se centrasse sei punti nelle ultime due partite insomma i rossoneri tornano padroni del loro destino intanto sarà fondamentale battere la Ternana che sarà priva dell'ex vitale del suo migliore elemento Falletti e che soprattutto è già salva questo campionato però ha insegnato che non ci sono partite scontate basti ricordare la lezione dell'ultima gara del Biondi contro l'Avellino una gara quindi da approcciare al meglio e da non fallire solo una volta superate le fere di Roberto Breda per la Virtus ci sarà la possibilità di guardare il risultato delle dirette rivali e del Livorno che se non dovesse fare il pieno d'Ascoli sarà quasi certamente retrocesso con la Virtus che potrebbe così chiudere il campionato in terra labronica contro una squadra delusa e senza più stimoli per la fondamentale gara di sabato Maragliulo dovrà rinunciare a Bacinovic squalificato e Aquilanti il cui infortunio alla coscia sarà meglio valutato domani ma la stagione del capitano Frentano potrebbe essersi conclusa si cerca di recuperare l'attaccante Mari Lungo assente domenica scorsa ma quel che è stato già recuperato è l'entusiasmo di squadra, società e tifosi sarà questa l'arma in più della Virtus contro la Ternana Sotto un profilo tecnico leggeremo le motivazioni di certo la sentenza del genere che costituisce un primo caso per gli illeciti amministrativi non ci sono precedenti di riduzioni così sostanziose posso riferire soltanto che abbiamo e tengo regalato la serie B a Lungiano adesso basta che la squadra faccia lo sforzo che deve e Lungiano conserverà una categoria così importante significa aver stravolto tutte le tesi tutte le argomentazioni, tutti i teoremi proposti dalla procura federale e accolti in primo grado al Tribunale federale nazionale quindi devo dire che trattato di una vera e propria non voglio essere autocenebrativo ma di una apoteosi professionale e oggi posso dire che il Lungiano che fino a ieri era con un piede e mezzo in Lega Pro oggi è con un piede e mezzo in serie B e questo ritengo sia un dato di fatto non discutibile sa come si è trovato con i dirigenti della Virtus Lungiano e poi li ha sentiti negli ultimi minuti? No, Valentina Maio era con noi in udienza quindi è assistito a tutto il processo era presente anche Marlo e Turchi diciamo che tutta la famiglia del Lungiano e penso tutta la città oggi era vicino alla società e vicino alla squadra era presente Claudio di Buccianico che era uno dei dirigenti inibiti quindi c'era lo staff del Lanciano al mio fianco e non posso non citare i colleghi Michele Cozzone e Cesare Decidio che hanno difeso i dirigenti di Buccianico e Castegnerò e che sono stato al mio fianco e quindi condividero con me questo grande successo Dunque abbiamo ascoltato anche le parole a caldo dell'avvocato Chiacchio che ha difeso il Lanciano nel processo d'appello adesso andiamo in Lega Pro è fissato per il tardo pomeriggio di oggi l'incontro tra il presidente del Teramo Campitelli e l'allenatore Vivarini per discutere del prolungamento del contratto di questo ha parlato ieri sera nel corso di ProTeramo proprio il patron bianco-rosso Penso che incontro Vivarini ci guardiamo negli occhi capiremo insieme se il voler stare ancora insieme lo sentiamo tutti e due oppure se le cose non dovranno andare come spero il contrario mi dispiacerà molto sicuramente rimarremo legati da questa avventura per sempre perché siamo andati insieme in serie B ma io penso che ci sono tutte le basi per poter far sì che il nuovo Teramo riparte da Vivarini, Campitelli e Lupo dobbiamo ripartire con un progetto nuovo quindi se non ci sono i presupposti giusti ma non da parte di Campitelli e Luciano cioè da parte di tutti e due cioè noi se dobbiamo ripartire dobbiamo ripartire con l'intenzione di voler di nuovo tornare in un anno in due a poter riprogrammare una cosa importante ripartendo sicuramente dal basso non parlando più del passato perché il parlare del passato ci ha fatto arrivare ottavi poi come tutti gli uomini abbiamo i nostri caratteri io ho il mio, un bello brutto però rappresento una società e lui ha il suo sicuramente su tante cose non la vediamo lo stesso modo ma credo che se io tolgo Vivarini e arriva un altro penso che il problema è sempre lo stesso perché non sempre si ragiona con con la stessa testa è tutto per questa prima edizione del TG6 prossimi appuntamenti alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti